Il lago di Viverone può vantare una nuova appello, una nuova collocazione enogastronomica perché la tenuta Variselle con Enrico Busca aprite un agriturismo che però è un agriturismo di qualità, diciamo un livello superiore alla media. Sì, l'idea è appunto di dare una struttura che abbia un interesse particolare, quindi si dovrebbe differenziare un po' dalle realtà degli agriturismi che normalmente abbiamo nella nostra zona proprio per la qualità e anche proprio per la location che è questa zona particolare vicino al castello con la vista appunto del lago. Ferdinando Principiano, Monforte d'Alba, un produttore di vini piemontesi che finalmente non vuole soltanto cercare i premi ma vuole proporre un prodotto che venga apprezzato dal pubblico, degustato anche per il vino di tutti i giorni. Sì, la nostra azienda è un'azienda storica in Langa, nasce inizio del Novecento e come mio papà e come mio nonno la nostra è una produzione familiare e produciamo vini tipici della Langa, il Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Fresa e Barolo e la nostra filosofia è quella di produrre vini il più possibile gastronomici. Grazie per la visione!